Non mi piace Fremsci, non capire i colpitrissi, Fremsci Fremsci, sopra, sotto, sopra, che vedo Fremsci 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 non lo fa all'altro lato e tu controlli che ce l'ha fatta io non ce li ho indietro non lo faremo adesso te prima festa e Grazie a tutti. E' la fine dell'incontro. Siamo al verdetto. Vince questo incontro per un tecnico a 2 minuti e 36 secondi della prima ripresa. Radiomite Francesco Russo! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti.